66 nuovi casi di covid in Abruzzo, 15 di questi però sono riferiti al periodo tra il 16 e il 24 maggio, non registrati tempestivamente dalla ASL1 a causa degli ormai soliti disservizi informatici. Il più giovane tra i contagiati ha un anno, il più anziano ne ha 89. Di questi uno proviene da fuori regione e nessuno è residente in provincia di Pescara, 19 sono invece della provincia di Chieti, mentre 23 sono dell'Aquilano e altrettanti del Terramano. E' quanto emerso dall'analisi di 3.471 tamponi molecolari. Due decessi portano il bilancio delle vittime a 2.473, si tratta di una 68enne della provincia dell'Aquila e di una 83enne del Terramano. E con gli ultimi 203 guariti, attualmente in Abruzzo sono 5.685 positivi accertati, 139 in meno rispetto a ieri. Di questi 171 pazienti, meno 5 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale e in area medica. 16 sono quelli in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri, mentre gli altri 5.498 positivi accertati, 133 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL.